Agenzia Pratiche Auto di Michele Ritoli San Nicandro Garganico Cagnano Varano Calcio Carapellese 3 a 3 Erdonia Calcio Troia 3 a 0 San Giovanni Rotondo Squadra del Cuore Rodi 2 a 2 ASD San Nicandro Atletico Foggia 2 a 2 Per l'SD San Nicandro In gol D'Antuono e Biscotti Sport Lucera Sporting Apricena 1 a 1 Questa giornata ha riposato il matinum Adesso andiamo a guardare La classifica Erdonia Calcio 13 punti Squadra del Cuore Rodi 9 Sporting Apricena 8 ASD San Nicandro 7 Matinum 7 San Giovanni Rotondo 6 Sport Lucera 5 Atletico Foggia 5 Troia 3 Cagnano Varano Calcio 2 Carapellese 1 Il prossimo turno si terrà l'8 novembre Andiamo a guardare le squadre Atletico Foggia Erdonia Calcio Carapellese Sport Lucera Sporting Apricena Matinum Squadra del Cuore Rodi Cagnano Varano Calcio Troia San Giovanni Rotondo Riposerà l'ASD San Nicandro E adesso passiamo alla podistica e atletica leggera Ieri è la tradizionale maratona di Bari con la mezza maratona di 21 km Club atletico di San Nicandro con i podisti Luca Giagnorio Mauro Giagnorio Nicola Civitavecchia e Antonio Tangredi Con ottimi tempi hanno percorso i 21 km tra centro storico e lungomare barese Appuntamento domenica prossima con l'evento sportivo che unisce solidarietà, volontariato e sport Finiamo con il rugby e guardiamo i risultati della terza giornata Amatori Monopoli Cus Foggia 52 a 0 Amatori Taranto Sbicat Rugby ASD 22 a 31 Salento Quindicesimi Tigri Bari 9 a 3 Guardiamo adesso la classifica Amatori Monopoli 14 punti Tigri Bari 11 Salento Quindicesimo 10 Sbicat Rugby ASD 5 Amatori Taranto 1 Cus Foggia 1 Il prossimo turno si terrà l'8 novembre Le squadre sono Sbicat Rugby ASD Amatori Monopoli Tigri Bari Amatori Taranto Cus Foggia Salento Quindicesimo Per oggi era tutto Vi do appuntamento a lunedì prossimo Buon pomeriggio a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.